Ringrazio la Ministra De Micheli per essere qui ancora una volta per annunciare scelte fatte, atti compiuti attraverso lo strumento del commissariamento, garantire non solo investimenti ma velocità e realizzazione di queste opere. L'altra grande trasversale è la Civitavecchia Orte, oggi diventano concretezze grazie al commissariamento si corre per realizzarla. Noi dovevamo anche immaginare un modello di velocizzazione per la realizzazione di queste infrastrutture, anche perché cercheremo di rendere omogenea l'attività commissariale, come è giusto che sia, e per quel che riguarda la tempistica, considerato il modello previsto dal decreto legge semplificazioni, contiamo di avere in sella i commissari entro il mese di settembre.